ragazzi ti mostrerò una casa che abbiamo fatto con mia figlia guarda ha tutto il tetto rosso e muri e questo è camera da letto qui a letto e Elsa qui dorme e qui armario e anche qui armario letto coperta un piccolo bambino qui è santa madre e abbiamo anche una fotografia di nostro amico padre giovanni mangiare abbiamo tutto e anche un cuore e coniglio e un fiori bellissimo